Musica Continua con grande successo il progetto anticontraffazione che vede protagonisti quasi 400 studenti fiorentini degli istituti medi superiori. Questa volta è stato il turno dell'istituto superiore Giuseppe Peano di Via Andrea del Sarto a Firenze. Si ritiene opportuno partire proprio dalle scuole per spiegare sia il fenomeno appunto della contraffazione e le sue conseguenze e capire dall'altro invece come fare per essere tutelati e quindi perseguire invece la strada maestra di tutelare i propri diritti di privativa come marchi brevetti che poi sono alla base appunto di una tutela per le imprese. Promosse dall'osservatorio anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze, le giornate formative e informative nelle scuole mirano a educare i più giovani ad armarsi degli strumenti essenziali per difendersi dal fenomeno della contraffazione. Il nostro ruolo oggi qui a scuola è quello di spiegare ai ragazzi che dietro questo semplice gesto dell'acquisto di un prodotto di marchio contraffatto nasconde dietro situazioni di illegalità, di sfruttamento della mano d'opera e di evasione fiscale. Negli ultimi dieci anni le attività di contraffazione sono cresciute sui mercati mondiali del 1700%. L'effetto devastante ha colpito le aziende italiane sottraendo loro 6 miliardi di euro l'anno e 3 miliardi di euro allo Stato. Noi spieghiamo innanzitutto quali sono gli elementi per i quali non dovrebbero acquistare questi prodotti perché possono alimentare una economia sommersa, sia sotto il profilo sommerso proprio del lavoro, del lavoro nero, cosiddetto, cioè coloro che operano e che producono questi oggetti, e anche quello che poi è l'aspetto successivo, cioè il reinvestimento dei capitali che provengono da questo commercio di prodotti illegali. L'acquisto di marchi e modelli falsi ha tanti effetti negativi. Tra i primi della lista il calo di fatturato e di lavoro, ma anche la creatività e l'innovazione pagano alto il prezzo di questo fenomeno. Il significato è quello di portare avanti un protocollo molto importante dell'anticontraffazione intesa sia sotto aspetto produttivo che di acquirente. L'educazione al consumo e la consapevolezza di avere diritti può portare alla formazione di consumatori attivi, quindi insegnare ai ragazzi che anche attraverso le loro scelte possono contribuire non solo a far valere i loro diritti come consumatori giovani e anche futuri, ma attraverso il rispetto dei loro diritti possono far rispettare i diritti anche di altri. Da non sottovalutare lo sfruttamento del lavoro e la salute dei consumatori finali. Sono molti infatti i prodotti che contengono sostanze dannose se non addirittura tossiche. I ragazzi, che sono tra i tanti possibili consumatori di queste merci pericolose, hanno accolto con interesse l'iniziativa dimostrandosi molto preparati. Sei in grado di riconoscere qualcosa di contraffatto da qualcosa di autentico? Sì, guardando dove è stato costruito, cioè Made in Italy o Made in Cina. Il capo della Polizia Municipale ci ha fatto vedere molti di quelle persone che sono sottopagate e che appunto sono costretti a lavorare diciamo in queste vere e proprie gabbie, diciamo così, sottopagati, non possono uscire, dormono lì, lavorano lì, mangiano lì. Tutto il discorso delle conseguenze che ci sono anche a livello economico per le varie aziende e quindi anche per i lavoratori, perché comprando determinati prodotti non di marca è ovvio che poi dopo si danneggia tutti i lavoratori che ci rimettano nei diritti.